E che bello, siamo qui con Giusy Battaglia, esperta di cucina! Una super esperta, perché questa donna con facilità passa da un piatto all'altro con maestria, con arte, con sapienza, perché conosce bene gli ingredienti e i palati soprattutto. È tutto commestibile questo? Tutto fresco? Tutto fresco, quello che in cucina si può mangiare sempre. Allora, in cucina possiamo preparare di tutto, Giusy. Assolutamente. Piatti elaborati, ma anche piatti semplici. E tu sei la fautrice dello svuota frigorifero, cioè quello che abbiamo a casa possiamo trasformarlo in qualcosa di buono, di appetitoso. Anzi, non buttiamo via niente. Guai. E oggi anche nel tuo libro. Non sono siciliani. No, perché io ho un marito napoletano, quindi cerco di fare equilibrio. Senti, tu lo racconti anche nel tuo libro, Viaggio in Sicilia. Questo è il mio secondo libro, dove ci sono tante ricette proprio anche per cucinare quello che davvero abbiamo in casa. Tu hai due figli meravigliosi, due gemelli. Marco e Luca. Che ti seguono. Che mi stanno guardando. Ciao ragazzi. È la prima volta, non mi hanno mai filato di pezzo. Forse erai uno, eh. Che ci vuoi preparare oggi? Allora, oggi volevo fare delle cose che potevo portare a compimento. Sì. Classico piatto tipico di pantelleria. Capito? Pantesca. Pantesca. Che in ogni menu che si rispetti in Sicilia c'è sempre questa insalata presente. Io, allora, mi servono dei pomodorini. Eccoli. Delle acciughe. Dei capperi dissalati. Dissalati. E delle cipolle rosse. Però io preferisco tagliarla a fette belle. Questa è la cipolla di Tropea? La cipolla di Tropea, sì. Che meraviglia. Questo è il periodo di maggiore espressione della cipolla rossa. Che profumo. Che dona un sapore pazzesco alle insalate. E ovviamente anche le patate che adesso vado a pelare. La cipolla è fondamentale? Per forza. Per forza. Ti posso aiutare a pelare le patate? Sì, dai. Ti voglio aiutare? Che poi serena, insomma. Non abbiamo coltelli piccoli. Che tu sei una grandissima. No, questo non va bene. Questo non va bene. No, usa questo. Usa questo e taglio con questo, dai. Io mi allontano un po' dalla cipolla. Sì, Gigi, vai. Sei allergico? Allora, stai tagliando la cipolla. Però adesso questo qua, dopo devo andare dai miei ospiti con l'odore di cipolla. Non è proprio meraviglioso. No, no, niente, faccio io. Tanto ci mettiamo proprio due secondi. Allora, prendiamo una bella ciotola dove andare ad assemblare l'insalata e poi la serviamo in un piatto. Sì. Rinfresca anche. In estate rinfresca. Ma hai mangiato una cipolla. Come mai? Ti perdi un piacere della vita. Gigi, non hai mai assaggiato la cipolla? Ma né cotta né cruda. Ma forse non te ne sei accorto, ma l'avrai mangiata sicuramente. Mettiamo dei pomodorini. Qualcuno ti deve aver fregato all'improvviso e ti ha messo la cipolla. Perché sai, la cipolla dà grande sapore. Anche i piatti più semplici gli dà una marcia in più. Assolutamente. Aglio e cipolla. Allora, adesso pomodorini. Li tagliamo, li spacchiamo. Li spacchiamo. Quanto sono buoni, che profumo e che colore i pomodorini. Devo dire di sì. Da noi si dice che friggiamo sempre, che si mangia pesante. Invece non è così. Invece ci sono ricette in cui si frigge e ricette in cui si mangia leggero. In estate, con queste poi temperature, è meglio... Essere leggeri, no? Esatto, non esagerare. Io faccio una mini porzione così ci sbrighiamo. Prendo anche una bella patata... La patata mi piace molto. Patata bollita. Bollita, sì. La dobbiamo solo spellare. Sì, la dobbiamo solo spellare. Allora lo potevo fare anch'io, ti potevo aiutare con le mani. No, 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 ma tu sei una presentatrice elegante. No, no, io so sempre con le mani in pasta. Lo so che tu sei bravissima. Io torno a casa, mi metto a fare le telline, la pasta con le telline, la pasta con le mo... No, mi piace cucinare e soprattutto la cucina è un gesto d'amore. Assolutamente. Ma è un gesto anche per accalappiare? Si può usare questo termine? Per conquistare? Sì, io penso di sì. Una donna che cucina, ma un uomo che cucina. Io sono pazza, quando vedo un uomo che cucina, già acquista punteggio nei miei occhi. Un'arma di seduzione. Può essere, assolutamente. Io lavoro per uno degli chef più importanti d'Italia, Antonino Cannavacciolo. Che salutiamo, Antonino. Maronne, come cucina bene. E quando lo vedi cucinare ti innamori, è automatico. Tutte pazze di Cannavacciolo. Le bimbe di Cannavacciolo. Suo marito non è cuoco. Mio marito non è cuoco, non sa fare niente, però mangia e mi dà soddisfazione. Ha conquistato mio marito con la cucina. Tu sei bravissima. No, no. Anche io devo dire, la prima cosa che gli ho fatto è le arancine. Vedi? Mettiamo i capperi. Madonna, quanto mi piace questa insalata. Questa è la classica insalata siciliana che si mangia. Io faccio tutto con le mani. Certo. Tanto poi me le mettiamo. Se le laverai. Le alici. Le alici, le acciughine. Buone. Sì. È perché l'alice dà quel tocco di sapore anche. Sì. Perché metteremo pochissimo sale. Come anche i capperi sono belli saporiti. Assolutamente, assolutamente. Ma la patata l'hai bollita e ci hai messo del sale? No, adesso condiamo con un filo di sale a crudo. Ah, non hai messo sale nella patata? No, 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 no. Adesso lo mettiamo nel piatto di portata. Sì. Che è questo qui, bellissimo. Non si usa basilico? Adesso, aspetta, dobbiamo abbellirla, Sere. Ah, certo, scusami, scusami, sono frettolosa. No, adesso ci mettiamo due foglioline di basilico. Madonna, guarda che meraviglia. Adesso questo basilico ci servirà per un'altra cosa, quindi però ci servia. Ci serve anche per questo. Anche molto più colorata e l'occhio vuole la sua parte. Fai conto che ancora non gli abbiamo neanche messo olio? Un pizzico di sale, come vi dicevo. Però c'era già un po' d'olio, delle acciugine. Un filo d'olio, se in questa insalata non ci va olio evo, assolutamente poco, rigorosamente. In questa insalata non ci va il limone, mi raccomando. Non ci va il limone. No. Ma l'aceto? Ecco, stavo dicendo, se volete un po' d'aceto di vino bianco è perfetto, ho l'aceto che più vi piace. Scusate, ma è perfetta. E questa è l'insalata fantesca. E scusa la ciputa, la potrei mangiare anche io. Sì, dai, Gigi, puoi anche non metterla. Senti, ma invece vedo lì del riso. Allora, sì, adesso... Tu dici insalata di riso sprint, questa me la posso mettere qua che me la mangio io dopo? Sì, esatto. Allora, questo lo togliamo e mettiamo di sotto. Perché dici sprint? Mi piace sprint perché l'insalata di riso, siccome molti la condiscono con la maionese... Mi pulisco un attimo le mani. Mi aiuto, eh. La condisco con la maionese. Sì, per renderla più golosa, per renderla più morbida. Io invece faccio un pesto. Sì. Faccio un pesto di basilico, che è un basilico, grazie, Sere. Prego. Un pesto di basilico che arricchisco, oltre che con i pinoli, anche con le mandorle. Quindi vado a mettere i pinoli nella... Il pesto poi d'estate funziona sempre. Le mandorle. Crepi la varizia. Poi anche molto... Il basilico ci aiuta a drenare, eh. Esatto. È un drenante, è un rinfrescante. Ma poi in estate c'è il basilico. Ormai gli ortaggi, devo dire, ci sono purtroppo tutto l'anno. Quindi hai messo basilico. Sì, basilico, pinoli. Mandorle. Mandorle, che è il mio tocco in più. Mandorle, se è subito Sicilia, fa subito Sicilia. Mandorle e pistacchi fanno Sicilia. Eh, sì. Noi abbiamo le mandorle di Avola, il pistacchio di Bronte, di Raffadali, che sono prodotti proprio d'Eco, che ormai caratterizzano il territorio. Mi piace anche il cioccolato di Modica. Il cioccolato di Modica. Tu sei un'appassionata di Sicilia, lo so. Eh, io sono un'appassionata, lo so. Ieri mi è arrivato un pezzo di cioccolato di Modica. Mica l'hai portato, eh. No, lasciato a casa. Te lo tieni per te, ma è zullo. Allora, quindi abbiamo messo basilico, pesto con pinoli, mandorle, olio. Sì. L'olio qui è abbondante, Gigi. Eh, qua ci vuole. Mi dispiace. No, ma questo non è per me. No, perché il pesto non ti piace, Gigi? No, niente. Quell'insalata ottima senza cipolle, quella la potrei mangiare. Questa te la potresti mangiare. Che cos'è che non ti piace? Devi provare, fai come i bambini. Un pizzico di sale. Devi ascoltare, devi ascoltare. Andiamo. Io ascolto. Non ascolta. Ecco, adesso possiamo... Frulliamo. Frulliamo. Spostatevi, se no vi macchio. A me anche questo suono mi piace. Questo è il suono, è come una musica. musica per le orecchie, perché mi porta indietro nel tempo, quando ero a casa con mia nonna d'estate o con la mia mamma, che cucina anche oggi i piatti prelibati, questo è un suono bellissimo. Ecco, il pesto è quasi fatto. Esatto, se ci mettete queste mandorle che vi dicevo, secondo me... Il pesto però non è siciliana come situazione. No, il pesto è genovese, ma i pesti ci sono anche il pesto alla Trapanese, ogni città ha il suo pesto. Questo è un pesto mio, di invenzione. Perché una cosa importante che mi piace dire è che in cucina ci vuole un po' di curiosità, un po' di inventiva. Dogmi non ce ne sono, e quindi ognuno fa le cose come piace al proprio gusto. Esatto, non è che dobbiamo seguire ricette precise. Esatto, esatto. Allora, abbiamo fatto il pesto, velocemente chiudiamo questa ricetta, così a casa possono prepararla, se no che li lasciamo appesi così. Poi tutto sul riso. Giusto, io ti vorrei qui ogni giorno per provare questi piatti. Veramente. Allora, mescoliamo il riso ovviamente bollito. Il riso può essere anche quel riso che vi avanzate. Certo, invece di mangiarlo nuovamente magari bollito che fa un po' tristanzuolo. Eh sì, si può dire. Sì, fa un po' ospedale. Questa è la base, poi lo potete condire, qui vi ho portato il tonno, il mais, i pomodorini, la mozzarella, lo potete condire con quello che più vi piace. Sì. Quindi se abbiamo tempo lo finiamo di condire. Quindi lo possiamo condire con tonno, mais, però questo pesto dà lo sprint. Esatto, questo è lo sprint. Invece di usare l'olio, la maionese, questo è. Giuse, grazie infinite. Ma grazie a voi. Poi volevamo anche spiegare come si faceva l'anguria, come era il gelo di melone. Il gelo di melone, il gelo di melone è la musica per le mie orecchie. Io sono pazza del gelo di melone, grazie Giuse. È il nostro dolce estivo. Riva la Sicilia. Che cos'è il gelo di melone? Il gelo di melone è una gelatina, diciamo, fatta con l'anguria, con amido e zucchero e cannella, che serve per farcire sia liscia così, oppure serve per farcire le cassate, invece che con la ricotta in estate usiamo il gelo, o le crostate, insomma, delle frolle buonissime. Grazie Giuse Battaglia e allora noi leggeremo il tuo libro Viaggio in Sicilia, Giusina in cucina, per farci ispirare da queste ricette meravigliose, ma è dopo la bontà delle preparazioni.